Si gioca il derby tra Notaresco e Vastese. Recupero infrasettimanale della giornata numero 11 non disputata il 10 gennaio, causa infortunio del signor Bocchini della sezione di Roma 1. Padroni di casa sulla carta più freschi, visto che i rosso-blu domenica non sono scesi in campo, bianco-rossi vastesi invece, reduci da tre gare toste e complicate. Anche se nell'ultima all'Aragona la prestazione degli uomini di D'Adderio è stata vincente e soprattutto convincente. Scacchieri come da pronostico della vigilia con il Notaresco senza Lattarulo e Colombatti e lo squalificato Marchionni. Dall'altra parte la migliore formazione possibile con Martinez in appoggio al 9 Bernardi. Ancora ai box Sorgente e Martiniello. Partono meglio i padroni di casa e nell'arco di 60 secondi portano addirittura due pericoli verso la porta di Di Rienzo. Prima frulla dalla distanza, scalda le mani al numero 1, poi Banegas è anticipato per un soffio prima del calcio in porta. Al quinto per i vastesi ci prova Diarrà, ma il tiro non crea apprezzione a sciva. La gara vive minuti di stanca, costellati da tanti fischi del signor Torreggiani e da tanti errori dei 22, tant'è che solo attorno al 27esimo arriva a una conclusione nemmeno così pericolosa. Di Prisco brecca ma il suo destro va a morire fuori dallo specchio. Due minuti dopo la mezz'ora però la palla per sbloccare ce l'ha il Notaresco. Frulla addomestica un pallone difficile sulla tre quarti, penetra in area ma occhi negli occhi con Di Rienzo sparacchia fuori con il destro. Attonito Epifani, in panca, disperato il presidente di Giovanni, in tribuna. Trentanovesimo, ancora Notaresco, Dos Santos vince un duello facendo a sportellate su un lancio di Simoncini. Entra in area ma perde il tempo per calciare. Poi l'appoggio per Frulla risulta corto ma due minuti dopo Dos Santos si rifà. Scappa ancora a sinistra il numero 9, non vede nessuno al suo fianco e allora decide di calciare. Il suo mancino è forte e preciso, nulla può di Rienzo al cospetto di una setta improvvisa e imprevedibile. 1-0, poco prima del Teccaldo la Vastese prova dalla distanza con Di Arrà ma Sciba, col viso e col petto, respinge. Nella ripresa da Derrio cambia due elementi, Out, Bernardi e Solimeno, dentro Lenocci e Mamonà. E dal pallone recuperato da quest'ultimo arriva il penalty per gli ospiti. Simoncini contrasta irregolarmente Lenocci e Torreggiani indica il dischetto. Dalle immagini però il fallo avviene fuori dall'area rosso-blu ma il direttore di gara, irremovibile, conferma la decisione. Martinez con una sorta di cucchiaio porta il derby sull'1-1. Il notaresco non riesce a cambiare il ritmo e la Vastese può alzare il baricentro, anche se sono i ragazzi di Epifani, a sfiorare il nuovo vantaggio con Palumbo alla sua prima da titolare, che dopo l'ottimo filtrante di Banegas calcia in bocca a Di Rienzo. E' il ventitresimo. La Vastese risponde subito dopo, al 27, con Di Filippo che incorna dopo la punizione di Martinez. L'incrocio dei pali salva la porta di Sciba. Trentacinquesimo. Bianciardi, forse sgambettato, perde palla centralmente. Martinez prova il tiro, che deviato va a finire in area piccola, con Sciba costretto all'uscita bassa. La conclusione seguente va addirittura in fallo laterale. Ora si gioca senza schemi, complice anche la gestione arbitrale insufficiente. Nel mezzo, due occasioni per il notaresco. Al trentaseiesimo Cesario perde l'attimo propizio e viene stoppato. Un minuto dopo, Dos Santos cerca il pallonetto su Di Rienzo, ma il numero uno non si fa sorprendere. Ci provano fino alla fine le due squadre, ma l'occasione più nitida capita sui piedi di Cesario, un minuto prima del triplice fischio. Banegas serve un cioccolatino nel cuore dell'area di rigore. Cesario se lo divora.